C'è un telegiornale che mi piace perché Mi fa stare bene anche se ora è dura ahimè La prima trasmissione che non vede l'ora di spegnersi Il nostro aperitivo contagioso è Telequarantena 6TG che mi gusta di più Con Damiano, Alessandro e Tutta il Grimus State a casa e tutti insieme ce la faremo Grazie 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 Grazie